Ciao a tutti d'Anteprima Cinema, vi lascio con il trailer di oggi ma subito dopo vi aspetto per le notizie di cinema. Sei anni fa una sonda spaziale si è schiantata in Messico durante il suo rientro, da allora iniziarono a verificarsi strani eventi. Il più grande film di fantascienza degli ultimi anni, totalmente unico e originale, impressionante. Be quiet, be quiet. Il regista Richard Linklater sta progettando un sequel di Before Sunrise, sempre con Ethan Hawke e Julie Delpy. Nel 1995 Hawke e Delpy recitarono le parti di Jess e Celine, due sconosciuti che si incontrano su un treno e passano una magica notte insieme a Vienna, prima di andare entrambi per la propria strada. Nel 2004 le due starsi sono incontrate ancora, questa volta a Parigi. Linklater, Hawke e Delpy vorrebbero tutti e tre collaborare insieme alla sceneggiatura e probabilmente cominceranno a girare la prossima estate. Martin Scorsese torna al suo genere d'origine con un nuovo thriller ispirato dal romanzo di Joe Nesbo, The Snowman. Matthew Michael Carnahan scriverà l'adattamento del settimo libro tratto dalla serie che vede come protagonista l'imprevedibile e alcolizzato detective Harry Hall. La trama trova Hall sulle tracce del primo serial killer della Norvegia, un violento omicida che lascia come firma un pupazzo di neve nelle case delle sue vittime. Questo non è il primo film che è stato tratto da uno dei romanzi di Nesbo. Ricordiamo anche Head Hunters, sempre di quest'anno, che ha sbancato con 12 milioni di dollari ai box office norvegesi. E per oggi è tutto, vi aspetto prestissimo con Antiprima Cinema.